questo messaggio potrebbe autodistruggersi entro poco quindi vediatelo buongiorno buongiorno ragazzi buongiorno lo so è tanto tempo che non mi faccio vedere dovevo finire la serie sul deserto se avete pazienza la metterò prima possibile volevo solo lasciarvi un messaggino molto molto breve per dirvi che sto bene ho passato un paio di mesi davvero difficili non sto qua a spiegarvi né a giustificarmi lascerò perdere qualche messaggio qualche commento negativo per la mia assenza ma mi concentrerò più sul ringraziare a tutti quelli che rimangono che sono rimasti come sempre dopo queste mie lunghe pause e invece che concentrarmi sui messaggi negativi di delusione di mancanza di rispetto sono consapevole che alcuni possono essere rimasti delusi e per questo mi dispiace il mio lavoro mi porta a poter prendermi lunghe pause se necessario perché questa era necessaria mi concentrerò sui messaggi positivi sia sotto il post di youtube che avevo messo tempo fa per dirvi guardate che sto bene però sto passando un periodaccio e una storia su instagram se volete un po di aggiornamenti voi su youtube magari seguitemi su instagram che ogni tanto è un po più facile e semplice dirvi come sto è un po più pratico più facile per quanto riguarda le news di quello che faccio non faccio ci sono i pecorai che sono in montagna e volevo ringraziarvi per tutti i messaggi bellissimi che mi arrivano che mi sono arrivati come sempre mi hanno fatto mi hanno fatto un sacco bene mi hanno fatto recuperare anche a livello psicologico è incredibile i messaggi che arrivano dopo anche due mesi e mezzo c'è la gente che si ricorda di scrivermi anche su instagram e viene a chiedermi come sto semplicemente come sto mandando un bellissimo messaggio una foto di loro in montagna di voi in montagna di voi al mare di voi mentre fate bici camminate fate sport e mi mandate un abbraccio in quel modo lì mi commuove ancora adesso per il resto dopo due mesi veramente complicati sia a livello fisico di salute non sto qua a spiegarvi perché vi fa fare una roba lunghissima sia a livello psicologico come già sapete chi mi ha seguito ho diversi ostacoli da da superare molto spesso sto cercando di lavorarci vi volevo dire che la serie sul sul deserto in arabia se me lo permettete finirà la finisco la pubblico magari in questi giorni a settembre e per il resto se volete vederla se non è passata ad altro per il resto mi son preso dei giorni dove sto nel nulla dove non vedo nessuno dove cammino un sacco in montagna sono in questo momento nelle alpi francesi sono col mezzo dove il grosso del lavoro è fatto mancano molti dettagli molte cose in più da aggiungere però dentro è vivibile ve lo farò vedere in un prossimo video mi godo ancora un attimino questi giorni in montagna vi ho pensato ho detto faccio un video così a pancia per quelli che sono rimasti delusi mi dispiace potrebbe ricapitare quindi se non è questo il canale che fa per voi ci vediamo alla prossima per quelli che rimangono come sempre vi voglio bene sembra scontato siete voi che molto spesso mi date l'input per ricominciare per rifare per continuare ripeto non sto qua a dirvi il perché il per coma perché saremmo qua ci potrei scrivere un libro anche solo negli ultimi due tre mesi vi prometto che ci sto lavorando poi se prendo lunghe pause sapete che poi ritorno con contenuti e ritornerò con contenuti anche sul mio fuoristrada vedrai faccio poi vedere tutta la camporizzazione va bene vi saluto e vi do un abbraccio mi vado a dare una sciacquata nel fiume poi riparto e non so neanche dove andare sto veramente andando a spanne ciao ragazzi un abbraccio grande ciao 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 ciao